Vedi Chico Patierno la domenica segnare Goltoni Truanti sul prato del Città degli Ulivi e pensi che c'è stato un altro giovanissimo leoncello che negli anni 70 e 80 illustrò il suo talento con reti che incantarono tutti e poi volò al nord per divenire bomber, vero, sino alla cadetteria. Cesare Vitale, nomen omen, è stato cesarino da subito piccolo imperatore negli ultimi 20 metri di campo. Già, sai che significa esordire in serie di allora davvero quarta serie a poco più di 16 anni mi raccontò un dolce meriggio di tanti anni fa. Non avevi mica il tempo di stare lì a pensare, dovevi diventare subito uomo. Nessun avversario aveva riguardo della tua giovane età e dovevi far tesoro di tutti gli insegnamenti che ti davano i compagni di squadra. Era il bitonto che tremare il mondo faceva e quel fazzoletto di terra brulla sull'erta di Via Megra era un'autentica fossa di leoni con Mariolino Licinio, Alberto Perrini, Pinuccio De Michele e tanti altri nomi indenebili nella memoria dei bitontini. Diciamo che ero un po' testa di... non nel senso che davo fastidio nello spogliatoio, no per carità, è solo che mi accontettavo. Ci sapevo fare con il pallone tra i piedi, però mi facevo bastare anche categorie inferiori a quelle cui potevo davvero aspirare. Una stagione in nero-verde, più di 30 partite, tutte indiavolate, c'è da scommettere, una dozzina di gol, compreso quello della salvezza. Poi Vitale, a proposito un cognome garanzia d'amore per il pallone, Giovanni e Nicola per esempio, stipa dentro la valigia sogni e progetti e vola via a Reggio Emilia, la meta dell'onirica avventura. Anche in maglia granata Cesare trasvola con tremenda concretezza le aree di rigore. Lo vuole il Genoa in Serie A, un pasticcio alle buste però, crudele e asta invisibile che decideva le sorti di imberbi pedatori tanti anni fa, lo destina alla Massese. Negli anni settanta veste le casacche di audace San Michele ancora reggiana. Seguono quattro anni avventurosi a Padova nel 79-80 conquista la Coppa Italia semiprofessionisti e l'anno seguente salta dalla C2 alla C1. Tre palpitanti anni a Prato, anche qui con una promozione. Pure Livorno, Pistoiese e Sassuolo si fregeranno delle sue mirabolanti prodezze. In un Prato Pistoiese l'ho preso in consegna al tale Sergio Brio. Prima della gara ci salutammo, mi prese in consegna, mi diede tante di quelle mazzate, ma comunque segnai e dopo ci abbracciamo. Altri tempi, altro calcio, ricordò con un sorriso pieno di nostalgia. Vive ormai a Reggio ed è proprio lì che è diventato maestro di giovani promesse l'ex Juve nazionale Nicolare Grottaglia tra queste, allenato infatti a Giorgione, Brescello e la Reggiana stessa. Gli è capitato persino di sedere in panca in Serie A nel 94-95. In quattro partite ho fatto più punti dei miei predecessori e poi, posso dire una cosa, ho avuto a disposizione il più grande giocatore che io abbia mai allenato, il portoghese Paolo Futre, che spettacolo con i piedi che si ritrovava sapeva fare di tutto, si inorgoglì quel dì.